Amici 17, Matteo rientra nella scuola senza i Black Soul Trio Colpo di scena per i Black Soul Trio? Dopo tante critiche di Rudy e Carlo, il frontman decide di continuare il suo percorso scolastico da solo. Un paio di settimane fa ad Amici 17, Video, Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco avevano dichiarato che i Cancelletto Black Soul Trio non avevano alcuna probabilità a presentarsi al serale. L'unico componente forte era soltanto il cantante Matteo, leader della band. Rudy e Carlo avevano quindi consigliato al giovane di separarsi dal gruppo, questa sarebbe stata l'unica possibilità per lui per procedere il suo percorso all'interno della scuola più spiata d'Italia. Nel corso della giornate successive Matteo era stato invitato a preparare in studio Miserere e Caruso, i due brani che gli sono stati assegnati in qualità da solista. I Black Soul Trio si separano e Matteo resta nella scuola. Matteo Cazzato aveva rifiutato due volte la proposta di separarsi dai Black Soul Trio. Però, i dubbi erano molti tanto che i due membri della band, avevano voluto confrontarsi con Matteo, per riuscire a convincerlo ad arrivare finalmente ad una decisione definitiva. Infine, sono stati proprio loro ad abbandonare la scuola di Cancelletto Amici 17, in quanto erano a rischio eliminazione tranne il frontman che è stato messo alla prova dalla commissione per vedere come se la cava a calcare il palco da solista. Dopo aver lasciato i Black Soul Trio, Matteo si è esibito davanti ai quattro insegnanti di canto specialmente dinnanzi a Di Francesco e Zerbi che avevano espresso grandi dubbi nei confronti dell'ex gruppo musicale. Le due interpretazioni di Matteo sono riuscite a convincere il pubblico e soprattutto la commissione, Paola Turci ha dichiarato che il ragazzo deve assolutamente restare nella scuola, mentre Giussi Ferreri ha detto grazie ai suoi colleghi per ciò che hanno in qualche modo creato, in quanto è riuscita a sentire un meteo cambiato, con differenti sfumature di voce piuttosto piacevoli. Infine, Di Francesco e Rudy hanno espresso giudizio, tu a differenza di altre persone che sono qui nella scuola hai un timbro vocale bellissimo e riconoscibile. Quindi, Matteo rimane nella scuola, video, con la possibilità di approdare al serale e di crearsi una meravigliosa carriera musicale. La storia dei Black Soul Trio, ecco chi erano. I Black Soul Trio era una band proveniente dalle C'è ed era composta da, Matteo Cazzato cantante, Davide Donadei tastierista e Aldo Torsello chiterrista. Il gruppo musicale è nato in maniera casuale, i due musicisti Donadei e Torsello suonavano già insieme, mentre il cantante proveniva da un'altra band. Successivamente, i tre ragazzi si sono riuniti in una serata nella quale si erano ritrovati in difficoltà. La nostra musica è un po' il nostro percorso, passiamo da brani impegnati e classici a pezzi divertenti e salentini. Desideriamo dare al pubblico qualcosa che ci deve tornare ha dichiarato l'ex band ad Amici Casting.